Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovo video di scopa, oggi vi mostreremo un Glamplay raga Ok, mettiamo 4 carte in mezzo, è uscito il 4, il 3, il 5 e il 2 5, 4, 3, 2, 3 carte ciascuna Io vado e inizio Allora, mi è uscito il 4 e mi prendo il 4 raga, vai Nulla Come nulla? Ma io 6, io 7 E 5 più 2, 7 fa Ok, io ho 3 ragazzi e faccio scopa 1, no, tu, tu, tu Ok, sta registrando, raga vai 4, metto 1 E tu riesci a andare Ok, vai Vado prima io 4 più 1, 5 Ok, vado Vai tu 10 scopa Metti quello là Ma questo quale devi mettere con il drago? Con le stemme Aspetta la drago che non c'è un inconveniente Vai 6 Metto 6 9, 8 E 9 Ok, prendi il 9 Ok Raga, metto 1 Metto 1, raga Vai 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 Ok Ok, metto 1 Mi prendo l'1 Io vai E metti la scopa Ok E metto 9 E vabbè 3 scupe Vabbè Vai Vai Tocca a te Guarda Tocca a te Raga Ha messo 3 Io metto 6 Ha messo 5, raga Io metto 8 Così mi prendo 5 e 3 Boh Forse la cassa Non so Ha messo l'1 E scopa 6 Più 1 7 Scopa, raga 3 E 3 Ok, vai 1 2 Scopa Vai 7 Io 4 Vai 10 E mi prendo il 10, raga Ok 3 E 3 Vai, Emi Vai Vai, Emi Vai, vai Vai 7 E questo è 4 11 Però l'11 Non ci sta con la carta Ha buttato l'8 Io butto 7 Ha buttato 5 Io butto 2 6 4 4 E 2 6 E io butto il 3 E mi prendo tutto Ragazzi Adesso Dobbiamo fare I conti E vedere Un attimo Chi ha Vinto E 1